Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me conoscerete anche il Padre mio. Fint'ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli rispose Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Parola del Signore. Parola del Signore. Parola del Signore. Parola del Signore. Ecco, con questo Vangelo siamo uno dei punti più alti di tutta la liberazione cristiana. e osservate come Gesù ci chiede che noi possiamo arrivare a comprenderlo in profondità. Gesù ci chiede, tanto che in un certo senso, in un modo così amabile, rimprovera Filippo. Filippo è stato uno dei primi apostoli, eh. era prima con Giovanni Battista e poi quando è arrivato Gesù, sulle rive del Giordano, il Battista l'ha indicato come agnello di Dio, questo ha sentito con Andrea ed è andato dietro a Gesù. quindi è un apostolo della prima ora, era stato con lui, si potrebbe dire che era quasi innamorato di lui, affascinato da questo maestro. Aveva ascoltato tanti insegnamenti, aveva visto i miracoli, aveva fatto vita comune con lui. e Gesù a lui fa questo riprovero. Filippo, sono da tanto tempo con voi e tu, perfino tu, non mi hai ancora conosciuto. A che cosa si riferiva Gesù? Non è che Filippo non lo conoscesse nel senso umano, lo riconosceva tra mille. E anche come profeta, come un uomo fuori del comune, un predicatore affascinante, sicuramente Filippo era convintissimo di questo, era lasciato la sua famiglia per questo. Però Gesù si riferisce a una conoscenza intima di Gesù, profonda, dove c'era la sua unione col Padre, la sua straordinaria intimità col Padre, il suo potere di rendere presente nel mondo il volto e l'amore di Dio Padre. Questa è la parte più profonda di Gesù. Gesù ci chiede che noi, quelli che gli stanno più vicino, che cercano di seguirlo, che giungiamo a questa conoscenza. Non basta vivere in chiesa perché abbiamo un po' di consolazione, ci sentiamo un po' meglio, a volte il Signore ci fa delle grazie per i bisogni che abbiamo. Tutto è buono, ma è troppo poco. Gesù vuole un rapporto vivo con Lui e poi un rapporto profondo, che riesca, col suo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo, a cogliere il suo mistero. Il mistero di Gesù non è solo che Lui è salvatore verso di noi, ma che è il figlio e l'igerito del Padre una cosa sola come il Padre. E questa è una cosa bellissima perché poi permette a noi, permette a noi di sapere e di sentire che il Padre di Gesù è anche il Padre nostro. Questo è il cuore della nostra fede, il Padre di Gesù è anche il Padre nostro. Quindi, conoscendo Gesù intimamente nel suo mistero, noi arriviamo a conoscere che Dio è nostro Padre. E questo è il più grande desiderio di Gesù. Gesù vuole che quel rapporto speciale che Lui ha con Dio Padre diventi anche il nostro. E nel canto che abbiamo fatto, e c'è questa bellissima richiesta, abbiamo detto all'Eterno Padre fa che vediamo il tuo amore, vedere l'amore del Padre, che si manifesta a noi attraverso Gesù. Ieri Gesù, anche nella messa, nel Vangelo, ci ha detto che se noi siamo uniti a Lui, la nostra vita porta frutto. Stamattina l'inizio del Vangelo ci dice che Lui è la via per andare al Padre. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Ecco perché noi dobbiamo fare di tutto per diventare cristiani, non nelle parole, ma nell'esperienza personale profonda. perché solo attraverso Gesù, attraverso la fede in Lui, si apre a noi questa porta dell'amore di Dio Padre. Che poi fa rifiorire tutta la nostra vita. Diciamo a Gesù questa premiera ispirata dal Vangelo che abbiamo ascoltato. Signore Gesù, perdonami se finora non Ti ho conosciuto come l'Apostolo Filippo. Non Ti ho pensato nella Tua unione col Padre e sono stato superficiale. Fa che Ti possa conoscere. Fammi intravedere la Tua unione col Padre e ammettimi alla Sua presenza. Ammè. Questa bellissima premiera la ricordiamo anche come una strofa di un canto che molti di voi già conoscono e preso da giunta l'ora. No.